Ciao a tutti sono Spieker, benvenuti a un nuovo video qui sul mio canale Come vedrete siamo su Dead Space, quindi grande ritorno sia del gioco sia mio Perché ero sparito, come avevo promesso oggi dovrebbe essere 7 Ed eccomi qua Allora, prima di iniziare volevo dirvi che svellerò l'arcano Cioè perché mi sono assentato durante queste vacanze O più precisamente quest'ultima settimana Allora, sia per le vacanze ma soprattutto per un motivo ben più valido Infatti è da circa una settimana che sto negoziando con dei network Che offrono delle partnership abbastanza interessanti Perché pian piano sto crescendo e quindi è necessario un cambio di partnership Visto che me l'hanno proposto, sono già 4 network ad averlo fatto Insomma devo valutare un pochino i contratti e non è una cosa stupida Cioè è una cosa abbastanza seria quindi ho voluto prendermi un po' di tempo per pensarci Ancora non ho deciso e sto aspettando un'email da parte della mia partnership Per dei chiarimenti sul contratto E quindi niente, per adesso è tutto normale E vi farò sapere nuove notizie Ok, iniziamo subito Questo è Dead Space Ricominciamo da dove c'eravamo fermati circa un annetto fa No vabbè, un bel po' di tempo fa comunque Allora, ho dovuto rigiocare la partita da capo Perché ho formatato il PC più volte Dall'ultima partita di Dead Space Quindi se notete delle differenze per quello In ogni caso sono esattamente dove è arrivato l'altro Nello scorso video, nella prima puntata Quindi ricominciamo subitissimo Allora, eravamo, sì, eravamo qui nell'ascensore E... Alla fine è servito anche... Oh cazzo, ho visto qualcosa Oh merda Oh shit Questa sale Oh fuck Oh cazzo Oh cazzo Scusate Per il silenzio Dammi l'energia Ok Un giro, scusate Svento altro rumore C'è casino Allora No, questa non è roba da prendere a quanto pare Eh, ma che cazzo però Ok Ok Tu che diavolo sei Va bene Dove devo andare innanzitutto Ok Porca vacca Mi sono cagato sotto Oh fuck Carica Ok Scusate Iniziamo benissimo questa Energia al plasma Scusate Ah no, ok Già ricaricato L'ho presa anche quella Eh, sembra di sì Scusate ma ho bisogno di energia al plasma Perché Prima l'ho finita E sono rimasto Unculato Sento gente Dove andare in quella porta? Ok, ci vado correndo Ah, levati Carcassa di merda Allora Tu che what sei Energia al plasma Oh fuck Va bene Noi entriamo Chiamalo Ok Non so Oh merda È aperto qua Perché è aperto Brutti bastardi Oh fuck Eh che cazzo Questo gioco regala infarti Oh Porca Non posso neanche urlare Dammi la minorgia al plasma almeno Oh santo dio che infarti Oh Cazzo Oh fuck Non ce la faccio più Non ce la posso fare Perché ho ricominciato questa serie di merda? Altri? Ho paura a girarmi Sappiate Ci prendiamo questa merda Che non so neanche cosa sia Chiave centro manutenzioni Ok Ora dove devo andare Sarà il centro manutenzioni Tu cosa sei? Oh fuck Ok ciao Non lo voglio leggere Devo andare verso la Scusate ragazzi ma Oh cazzo Un infarto Ogni 5 secondi No fuck È morto? Si rialzano sti bastardi La mia energia dov'è? Parti? Ok Allora Dobbiamo andare al centro riparazione Da quello che ho capito A fare non so cosa Vabbè sì Sicuramente a riparare Oh fuck Fanculo Sei un pezzo di merda Sei un pezzo di merda Che infarti Porca miseria So che questo gioco Si basa su questi Cazzo di animaletti Di merda Però non possono Saltarmi addosso così Questo non mi ricorda Cosa serviva Voglio fare una prova No non la faccio Allora dovevo andare Centro riparazioni No Ufficio stiva Oh cielo Apri questa porta Girare a sinistra Ma prima Cosa sei tu? Non energetico Che cavolo servono Questi non energetici? E voi cosa siete? Oh sì Ne abbiamo bisogno Oh cazzo Sto morendo Fatemi ricaricare Olè Per fortuna Non ho usato Almeno di questi Allora Qui abbiamo Schede adatti Questa ci serviva All'inizio E poi questo cosa sarebbe? Vabbò Altro? Fatemi vedere Cos'altro posso depredare Tu cosa sei? Ah Ne ho molti In the resting Potenziamocela Allora 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 È bella Ma il plasma Direi È l'unica che Seleziona Non so esattamente Ah ok Allora Mi interesserebbe Il danno Direi Ne ho solo due Di nodi energetici Mazzo Ehm Danno Sì dai E poi Ricarica Sì Nessun modo adiacente Cioè Oddio Oddio Non dirmi che è quello che penso Ma Va a vedere Ok Poi devo Fare Ok ok Perfetto dai Ok Il rig Cosa posso fare il rig? Ormai niente Modulo di stasi Va bene Qualcosina l'ho fatta dai Che cazzo Sono questi rumori Muovi il culo Potenzia Equipaggiamento Allora Ok Usciamo fuori Ho tanta paura Tantissimo Oh fuck Che cazzo vuoi? Ricarica sta merda Ok Ok Tu sei morto Oh santissima Se potessi urlare Diventerei più di pai Vi dico solo questo Allora Fatemi vedere come sono messo Amari che richiamola Non si sa mai Quanti colpi ho? 12 Perfetto Ok Girare a sinistra Scusate Ma Ho un po' di ansia Leggermente Qua cosa c'è niente Anche perché saltano dal nulla Cazzo Caspio Scusate Oh merda Ho dato un colpo al microfono No Non mi fotti Che ragazzino Tu ti rialzi O ti ho ucciso io Sapevo Lo sapevo Posso prendere un colpo Perché non mi lascia il tempo Di ricaricare Di prendere l'arma Scusate Ok Ok Calmini Oh fuck Sento rumori Entra dentro questa merda Ah Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Dove merda si chiama Vai Oh santo dio Questo gioco Cioè voi mi immaginate Con un gioco horror Vi immaginate me Cioè io Che gioco un gioco horror Devo essere proprio Non avete idea Dove cazzo sta andando In cielo Dove A sinistra Oh fuck La prossima volta Metto la webcam Allora ricarica Che tanto c'è uno qua dietro Come minimo A destra Allora salviamo la partita Dai salva sta merda Puttana troia Salva sta merda Non posso avere altre pagine Ah si che posso Mi piace Fare tutte queste cose così Allora qui Accetta Ok Abbiamo salvato la partita Andiamo un po' avanti Dai Diciamo ancora 5 minuti E poi chiudo la partita Che cazzo è questa voce Ho paura Che cazzo sono sti passi Ah si ho capito Sono dove era all'inizio Va bene Beh nessuno mi dice grazie Prego Ehm si Ah ok perfetto Ho annullato la quarantena Quindi dovrei poter entrare Siamo a bordo Oh santo dio Quanto si negativa troia Ma io ho una missione da compiere Ed è esattamente quello che intendo fare Con te O senza di te D'accordo Cerca di farci uscire vivi Un altro montacarichi What? Ok Ora devo tornare da loro Credo Perché non mi piace per niente Questa luce che lampeggia Va bene Ho tanta tanta paura No A parte di scherzi Ponte di volo Ci sono Eh eh Carinissima Ti ho visto Dove devo girare? E ti pareva Proprio dove è quella Puttana Ciao Oh fuck Oh fuck Scappa Scappa Oh mierda Non sei morta eh Ok Che cazzo succede? Prendi l'energia Prendi l'energia al volo Ricaricati Ricaricati Ricarica l'arma Calmo Credo di non averlo ucciso Ma perché Tutti i giorni Con me Oh fuck Cosa ho aperto Ok Dovrei esserci Ma ci sarà qualcosa Che qua dietro Scommetto Non mi fotti Caro Sono all'inizio Dovrei essere Degli amici No? Lì è un vero Inferno Buona fortuna Un cazzo Salviamo la partita Dai Dai Eh Ok La salviamo qui Accetta Olè Va bene Direi di chiudere qui Il video Io sono SpigaranoToto Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Iscrivetevi Condividete Mi trovate sempre su Twitter Google Plus Sul mio sito SpigaranoToto.x10.mx Che Tra poco Sarà radungibile In un nuovo indirizzo Che vi darò Prossimamente E spigaranoToto.x10.mx Verrà chiuso Perché Ho deciso così Ho Preso un altro Un altro dominio Un altro hosting Insomma Sto rifacendo tutto A nuovo Ecco Va bene Io sono SpigaranoToto Ciao a tutti Spero che il video vi sia piaciuto E spero che Siate Contenti Oddio il timer Spero che siate contenti E Di questo ritorno Sia mio Che di Dead Space Ciao Ciao a tutti i Ciao a tutti i